Oggi noi, cioè da lunedì, siamo tornati col volo del mattino, la nostra missione, diciamo, quello che ci piace fare, ricordarci le cose belle, le belle voci, le cose belle, le cose belle. Devo dirvi una cosa dopo, importante, ma vi faccio sentire, questa spiegazione è molto bella, prima di mettere questo disco meraviglioso, mi è andata via una cuffia, va bene, di Camilleri. Camilleri che ci spiega, o comunque ci racconta, un momento in cui è stato veramente felice. Perché mi è stata tagliata la cuffia? Io penso che la felicità sia una folgorazione, che arriva mentre meno te l'aspetti e forse mentre meno te la meriti. Ed è fatta di un nulla, è come quelle farfalle che voi prendete per le ali, poi le lasciate andare e sulle dita vi è rimasto un po' di polvere color d'oro, fate così e la polvere va via. Era la felicità e non ce ne siamo accorti. Un giorno in campagna, un odore improvviso di un'erba, la citronella, mi entrò attraverso le narici. Mi venne voglia di cantare ad alta voce e in quel momento, veramente, credetemi, sentì il mio essere in armonia con l'universo, non col mondo, con l'universo, con il grandissimo nulla, del quale fui per un attimo felice di perdermi.